oggi 13 dicembre alle ore 11 nella chiesa di san francesco assinziano pavia si è svolto il funerale di emanuele sabatino e che tutti conoscevamo come ema motorsport scomparso giovedì scorso trovato impiccato nella sua officina broni provincia di pavia per il momento non è stato trovato nessun biglietto messaggio che potesse spiegare l'estremo gesto la cerimonia di oggi è in forma privata anche se tanti tra parenti amici e fan lo hanno voluto salutare per l'ultima volta ma sono anche numerosissimi messaggi lasciati sui suoi profili e social e sul suo canale youtube ve ne lascio alcuni che sono stati lasciati su questo canale e che dimostrano quante persone tenevano al nostro caro emanuele grazie a tutti